Devo 40 fissi Ma quanti anni hai, Miki? 15 Davvero? Zii Zii Ciao Otto, come fai ad averne 15? Io pensavo almeno 17 Eh, 20 Eh, me ne abbiamo pingato Intendo che comunque non può venire una quindicenne a lavorare in una stream house quando deve guadagnare i soldi a quindici anni Ma mica la cosa Ma perchè non c'ho la visuale tutta buggata Ho 3 pompa Dammi un pompa, piccolo Cosa hai vinto? Ho 2 pompa Che vince Me l'ha rubato Ma hai rubato dove? Mi hanno un pompa Avete un po' da volare per me Sì Sempre mingoni Non ci fanno acquati N'arriva un altro Eh, saluta me lo cazzo prima o dietro 24 77 Ma di nuovo me l'hai rubato Ma hai fatto Ma la dove? L'ho messato L'ho messato Oddio Dai, non c'ho un pompa, c'è Ecco qua Siamo tutti con te E' la fine del mondo Beh, vediamolo appare Il tweak serve a potenziale computer Ciao, sei va Siamo scarso C'è un danno che potevi fare Minchia ma ti ho fatto Mi ho skillato, ho skillato 80 kill Ma tutte le kill me le skillà E vabbè c'è Oh ciao Come stai caro? Ti saluti sempre del live E c'è gente Ma lo prendiamo tutto lì Vai volta, volta, volta 3 secondi Io me l'ho fatto da stare Ragazzi, ciao Benovale, benovale Siamo in compagnia dell'amichi oggi eh Eh Che non sa cosa sta facendo Sto morendo Sto morendo La rio da 10 Cami perché non sei venuto qua? Cosa? Perché non sei salito qua dove sono io? Perché no? Buongiorno pescheriaaa Menone, Menone Siamo carichi Ci facciamo carriere dall'amichi Dove cazzo stanno le casse qua? Grazie Ma se andate al motel Non c'è niente al motel Ragazzi Ma cosa stai dicendo? Non c'è nessuno al motel E che cagare al motel c'è? Ma ti svegli? Se andiamo al motel Non c'è nessuno Ah E non lo so C'è Ma che non lo devi sapere È un'affermazione No vabbè L'è fatta come domanda Non è qualcosa No vabbè No vabbè Io domani ci devo fare un torneo con questo Ah Micky 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 Dimmi Ma tu domani ti alzi per le dieci di mattina Ah per le dieci? Eh penso che si Eh fai tu con noi il torneo Come volete volerlo? Così lo distrutto Novanta Vorrebbe fra tre secondi muore Ah aspetta Arrivo della scena in diretta Non sparategli Fate sparare la scena lui Dai arrivi Dai scappa Motti in volo Dai ho fatto Cioè quanto li hai fatto? Scusi ho fatto 150 Oh perché sparano a meno? Dai si ha fatto 2 mini Ho fatto a 113 Ciao Ma quale ciao? Qua si trovava un ciaoone Dono pescheria Ciao 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 Dono pescheria Oh merda Samu con 3 kill Non l'ho mai visto Dai frate Dai 1v3 Aiuto Aspetta che arrivo Eeeh Eeeh Vabbè dai 100 100 100 Sono qua Sono qua Se me li faccio tutti e tre Arrivo Arrivo Ma cosa mi devo fare un 1v3 60 100 Morto uno Ho craccato Ho craccato Ho morto un altro Avete un buon barilla Poi dello sfudo dai A piccone a piccone Noo Vado 24 l'ho fatta Guarda Io penso che ci sia un po' di gente da me Bello sta pistola Dove stai? Grazie a tutti Faccio poco l'aspirapolgara Dove stai? Fratellino Samu vedi che sei solo tu Come sono solo io? Eh siamo ancora qui Non c'è qua? Eh dove cazzo stava questo? Eh tre biscotto Vai vai Eh ma mi è entrato questo dentro Non l'avevo visto Samu adesso ti faccio una clip Con la mammutta Non l'avevo visto Guarda un po' di cheating Altro che Non l'ho visto io guardo Guarda la skin bella della Miki Guarda 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 Sventila Fatemi un po' di kick Domani il torneo Domani il torneo alle ore 14 Domenica alle ore 14 Se guardavi Un bacino Posso giocare ragazzoli Per giocare sulla piattaforma Sviola tutti insieme Sviola Sviola Si è sviaggito il viola Sviolietti Sviolietti Ma perchè Cammy non ha un'idea Pfff Io 60 Cosa per una volta questo? Hai del loot lì Cammy? Ma è schifo Guarda un'altra Sì ma uccisi due A me ne ho quattro Ma non hanno un cazzo Cammy Le uccisi che non avevano nulla Grazie per il follow Grazie per il follow Grazie bello 87 white a questo in volo Ma domani è sabato non domenica No c'è un torneo sia domani che sabato che domenica Oh mio Oh qualcun disco Anche lunedì c'è il torneo Morto un hunter Perchè spari a me? Guarda Sì Ma da dove sta? Oh Ehi Andagli lì Cos'hai di buono? Io salgo a destra Io non c'è mai ancora visto Morto un Ehi cazzo Mi ha parlato a cicchidare questo 87 white a questo in volo Guarda il nuovo interno Mi ha duecentato da un altro Morto uno Da meno uno di quattro dai Buonasera E white? Minchia faccio schifo Vabbè mi ha fatto duecento C'è Oh mio dio Eh mannaggia Mannaggia Ma mi possono fare? Perché sono ancora qui Guarda Sono in zero build Dai Samu tu sei sempre in zero build Samu Oh mio dio Hai tre mazze Ma che sono? Ma cosa ho fatto? Ma cosa ho combinato? Che webcam ho? Logitech L3 da me raga Logitech da Full HD 60 fps Una cosa del genere Sto trollando i ragazzi Stiamo divertendo Ma tu sempre In che senso? Comunque 5 killette me le son fatte Easy 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 Sono diamante 3 ragazzoli Per giocare con me Venite sulla piattaforma viola Stiamo guardando un ragazzo Che non sa fare un edit dopo l'altro Dietro Dai che è tuo Ma Spigliami il loot va Che mi venga a prendere un po' di loot Eh dai Perché vengono da sopra Che non mi sparate Sparato? Vabbè un pompo ce l'abbiamo Può stare? Prezzo mi sembra 110 euro caro Ora non mi ricordo bene quanto l'avevo pagata Ormai un annetto che ce l'ho Vedi? Camino E' bello il muro 3 E' sono quelli che mi stanno bollizzando da 3 part Ma dai dove? Io stavo guardando una cosa al telefono e mi sono trovato queste Vabbè dai Quanti cazzo sono? Eh c'è uno qui No Cazano Mamamica Voi la pescheria? Quello è mio eh Eh prenditelo tu E non ne ho toccato niente Però tocca a terra Ma no non ho colpi Ma sono uscita Dove stai fra te? Ma non si fanno queste cose? Facendo un attimo Oh ma dove cazzo state regà? Ma qualcuno qua che mi dà una mano Mentre sono in 1v3 Ma porca troia Ho una che mi dà una mano In 1v3 mi fanno andare Il microfono a cassa ti fa anche così Si come le colleghi Il microfono c'è il microfono E le casse ci sono le cuffie Cioè non lo so Cosa intendi caro? Ho 1v3 Ho 1v3 E mi lasciano raga 1v3 Ma non è possibile questa cosa? Mettila la metti Mi sono fatto 3 biscotti in gioco Vedete Cos'hai capito scusa? Eh Ah un po' un po' Stanno devastando Basta Fatemi un attimo fare qualcosa Sembra un po' to match Ho sai splash Se è finita Subito Vabbè Famu Faccio che c'è il cicchino Qua Fatte splash Fatte splash Dai giochiamo bene raga Facciamo vedere questi ragazzi Perchè siamo i campioni dai Io ho 12 build Dai Parliamo qua finchè possiamo Chi è che t'arpa? Io ho 2 build Perchè Ehi a sinistra C'è del mazzo lì a sinistra Sono distrutti questi davanti White 30 white a 1 Dai Abbiamo 3 persone qua 29 Eh niente Quanta cazzo che c'è il stesso spuglio Fatto 1 Lascia lascia aperto 29 un altro Samu 29 faccio un altro Vecili Samu Aspetta che era solo la mici No La mici è una brava Invece la staccata Eh non ho colpi Non ho colpi Non ho colpi Non ho colpi Avete colpi mitraglietti No Colpi un altro white Eh no io ci ho colpi Colpa IR scusa Mi parlo a terra 20 Posso dire Ho loot come nuovo ora C'è il caccio Ora siamo Eh sì Sì Arrivo Mi saranno colpi Bompa che ero 5 Ragazzi E qua è pieno Io ci ho da 50 Dov'è il caccio? Dov'è il caccio? Scusa Da me da me Io lo tengo Troppo forte Troppo forte sta mitraglietta raga Sì potete giocare tutti i sub possono giocare raga Troppo forte sta mitraglietta è spettacolare Non smira un colpo Boh Se la si avvinta Fammelo aclipare Così Nel chill Nel chill No vado a farmi di cieco l'ultimo dai No lo devo aclipare Dove sta? Dov'è? Dove sta? Qui Un capi fluido Te lo giuro si build arcova che creativo Dov'è? E' scarso Ti posso chiedere? No fai di cieco di cieco di cieco Aspetta Li chiedo 1v1 Fermi 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 Vai vai Eh ma Mi capirà? Boh Ho un bezzotto ovvio Vai eh Quale la cazzo di video? 12esima kill Sarei te Vabbè dai vuoi morire Capito? Eh dai Mi viene fatto fare di cieco a Samu